A tutte e a tutti, io sono Paolo, il tutor di italiano di Concorsi Militari Academy e oggi andremo a vedere alcune delle domande delle vostre banche dati. La prima ci chiede qual è il complemento presente nella frase tra tutti i miei amici Teresa e quella più sincera. Ora, escludendo subito stati luoghi e compagnia, effettivamente spesso e volentieri c'è della confusione fra il partitivo e il complemento di specificazione. Effettivamente il complemento di specificazione qui potrebbe essere un buon distrattore per il test. Dunque, bisogna stare molto attenti perché il complemento partitivo ci indica un tutto tra tutti i miei amici, quindi un insieme di un tutto di cui è indicato anche l'uno che si differenzia in questo tutto, Teresa. Tra tutti i miei amici si fa riferimento a un unicum che è Teresa, una persona. E' quella più sincera. Dunque, stiamo attenti perché a ogni complemento corrisponde una domanda e nel complemento partitivo c'è la domanda tra chi, tra che cosa. E ricordiamoci che il complemento partitivo ci presenta un insieme, un tutto, in riferimento a un uno, un soggetto unico, un elemento, chiamiamolo così, non soggetto. Dobbiamo anche fare attenzione al fatto che esiste il soggetto partitivo, esiste il complemento oggetto partitivo, ma non sono la stessa cosa. Sono due regole differenti in grammatica che non sono la stessa cosa del complemento partitivo. Dunque, fare molta attenzione a non fare confusione con il complemento partitivo. Andando alla domanda seguente, quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo possessivo? Ora, togliendo sicuramente stasera dovrò stirare tante camicie e togliendo anche queste sono le scarpe che comprerò, effettivamente la prima è anche qui un buon distrattore. Il pantalone che ho comprato ieri è nero. Il tuo è un possessivo tuo, ma qui non è un aggettivo, è un pronome, proprio perché non fa ripetere il nome pantalone. Quindi, prestare molta attenzione perché esistono gli aggettivi possessivi, ma esistono anche i pronomi possessivi. Quindi, in questo caso, viene usato come pronome e può rischiare, cioè rischiate di andare fuori strada perché vedete un possessivo è effettivamente un, ripeto, un buon distrattore. Ma l'aggettivo lo trovate nella frase tieni, ti cedo il mio panino. Questo perché se il pronome sostituisce un nome affinché non venga ripetuto questo nome, invece l'aggettivo si lega a un nome. Qui vediamo mio che è legato al nome panino. Dunque, ripeto e ribadisco, fate molta attenzione perché questo giochetto, chiamiamolo così, il test lo fa spesso e spesso e volentieri si rischia di cadere. Grazie mille, ci aggiorniamo alla prossima analisi. A presto!